ciao amici purtroppo io sono rimasto senza lavoro da giovanissimo e quanto ho avuto un computer mi sono scritto i social all'inizio me ne occupavo poco poi sempre di più adesso sto sempre lì ci vorrebbe un diversivo una compagna una compagnia qualcosa che sapessi fare non come suonare la chitarra o il piano che non lo so fare ma io non neanche neanche guarda non ho imparato a fare niente grazie 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 e in questo messaggio le metto le foto perché io ho chiesto qualcuno se si potrà trovare con me ma nessuno vorrà fare dei miei, a parte che io non conosco nessuno ma dei parenti non si vogliono trovare con me, ho amici dei parenti, o metto foto mie così lascio foto le metto tanto per fare qualcosa, per dire che da qualche parte del mondo c'è uno che ha fallito i suoi obiettivi e non vede l'ora di farlo sapere a tutti invece di nasconderlo, ciao grazie